buonasera a tutti benvenuti a questo incontro del gvmab oggi abbiamo con noi federico benvenuti che ci presenterà il progetto di empowering italian glam federico a te la parola grazie mille e buonasera a tutti vi ruberò un po di minuti per parlare di questo di questo progetto che fortemente voluto da da wikimedia italia allora spero che il la condizione funzione vediate la slide il progetto è molto ampio nel suo nel suo scopo e sarà anche pluriendale l'idea si riesce a vedere si 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 vede perfettamente la sua idea è quella di coinvolgere il maggior numero di musei italiani affinché di fondo che dopo adottino anche perfetto che adottino le licenze libere per il loro materiale che lo possono donare alla comunità ma poi anche di migliorare i loro contenuti un po sui progetti sui progetti wiki dunque è un progetto molto ampio nella fase prima di questo di questo progetto ha coinvolto in particolare wikidata e l'idea era quella che bisognasse partire da avere un un elenco di tutti i musei italiani almeno il più completo possibile e wikidata va da sé che era il progetto adatto per questo per questo scopo allora la prima parte da proprio quella dire miglioriamo il data set di tutti i musei italiani presenti su wikidata ecco per dire cos'è un museo su wikidata intendiamo quelli che hanno come proprietà 31 istanza di che sia museo che siano sotto classe di museo e che abbia la paese italia insomma banalmente così all'inizio progetto circa 7000 elementi più o meno adesso non avevo il numero preciso ma siamo su quella su quella cifra lì un pochino meno forse rispondevano a queste caratteristiche qui dunque avevamo circa 7000 elementi che possiamo considerare musei spesso erano anche un pochino privi di dichiarazioni c'erano molti doppioni anche che abbiamo individuato e quant'altro poi c'è un database che comunque c'era un bel data set insomma che però meritava di essere un po migliorato e speriamo di esserci riusciti e di continuare a poterlo fare ecco per per migliorarlo sono partite da una fonte quella che è stata la principale che è l'istat l'istat ha pubblicato dal 2011 in poi saltando anche qualche anno come vedete delle delle indagini fatto 2011 15 17 18 19 20 poi in realtà sono pubblicate un paio d'anni dopo quella 2020 è stata pubblicata inizio di quest'anno e indietro sempre con due anni di scarto ha pubblicato queste 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 indagini in cui ci sono veramente tantissimi dati non tutti erano utilizzabili su wikidata pensate nel 2020 molti dati erano inerenti alla gestione della pandemia del museo se aveva chiuso non aveva chiuso se aveva usato dispenser non so se non mi ricordo per non chiaramente non utili per noi però ci sono anche dati che potevano essere interessanti il numero di visitatori museo la superficie museale numero di collezione numero di dipendenti e quant'altro dunque dati per noi utilizzabili ecco ogni indagine dell'istat aveva 45 mila musei circa sono state annate più più ricche in cui scrivano i 5 mila musei che rispondevano a questo questionario che immagini siamo andato dall'istat ai vari e vari musei altri anni un po meno sui 4 mila ecco ogni indagine tra l'altro anche diversa uno dall'altra questo non ha molto aggiunto il lavoro perché in alcune magari appunto si considerava come 2020 cose inerenti un po alla pandemia nel 2017 magari c'era più enfasi sul numero della collezione così dunque non tutti gli anni abbiamo gli stessi tipologi di dati e questo non è bellissimo ad esempio per il numero di visitatori che sarebbe stato bello invece appunto per riempire gli anni abbiamo solamente di trannate mi pare che le date non l'hanno considerato comunque insomma abbiamo abbiamo preso quello che poteva essere utile dunque una delle prime cose importanti è stata appunto quella di scegliere quali dati fossero importanti utilizzabili su wikidata e quali proprietà poi utilizzare poi per strutturare questi dati in maniera corretta la problematica maggiore penso che abbiamo provato a importare un po di dati su wikidata l'aveva capito subito era proprio quello di correlare ogni record dei dati di istat ad un elemento wikidata purtroppo non c'era niente che potesse aiutarci ma non esiste un numero univoco un id identificatore univoco che potesse associare il record di istat a poi un altro elemento che abbiamo su wikidata nessun modo addirittura nemmeno tra un indagine e l'altra dell'istat non veniva assegnato ad esempio un identificatore dunque ogni annata ogni indagine bisognava associarlo all'elemento wikidata un lavorazzo come l'abbiamo fatto in due anzi più che altro è stato un altro mio collega che si è occupato tantissimo guido baratta che lavora per wikiman italia e io gli ho dato un po una mano per alcuni supporti informatici sono abbiamo fatto degli script abbiamo fatto delle query su wikidata per tirare giù un po tipo gli indirizzi e varie cose che potessero capire quale per riuscire a capire appunto quale record di wikidata andasse anche bene su 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 istat e dopo di questo ho fatto questo matching così che alla fine ha portato a correlare quasi 30 35 mila record istat ai relativi elementi wikidata questo lavoro viene più faticoso e noioso però insomma era indispensabile una volta fatto questo poi è stato semplice poterlo poter importare ecco lo svolgimento del lavoro qui vi dico un po come è stato fatto più o meno l'ho già anticipato e questo per ogni indagine istat dunque per ogni indagine la prima cosa è stata quella di scegliere i dati i dati che potevamo importare dopodiché strutturarli come strutturarli dunque scegliere le proprietà i qualificatori da utilizzare su wikidata fare tutto questo lavoro qua di correlazione veramente imponente è faticoso ma insomma si è stato fatto preparazione del data set una volta che abbiamo correlato e strutturato i dati formare insomma le stringhe e per poi fare in importazione tramite quick statement dopodiché creare gli elementi mancanti su wikidata perché effettivamente alcuni record con i musei che c'erano su istat non esistevano ancora su wikidata dunque lì si è creato l'elemento ex novo le proprietà usate queste qui sono quelle che che abbiamo riempito fondamentalmente unità amministrativa abbiamo tutti i musei attualmente su wikidata hanno la propria amministrativa il comune qui in cui risiede l'indirizzo i visitatori totali ovviamente con il proprio qualificatore il che identifica l'anno oppure se è un dato noto stimato perché in alcuni casi istat diceva se il dato era noto stimato allora il qualificatore opposito per indicare anche questo aspetto il numero di dipendenti di volontari se utilizza una collezione digitalizzata questo era un dato che interessava soprattutto wikimedia italia appunto per il prossimo del progetto è interessante appunto sapere quali avevano una collezione digitalizzata la proprietà usa collezione digitalizzata se c'è una presenza no del wifi gratuito esiste proprio una proprietà apposta è l'assessibilità ai disabili di questa istituzione il numero di beni esposti dimentico c'era anche la superficie non l'ho riportata superficie a disposizione e la presenza di alcune strutture potrebbero essere utili soprattutto magari se volesse dopo con wiki voyage potrebbe essere utile andare a leggere se c'è stato un parcheggio un guardaroba la caffetteria il bookshop e quant'altro del museo dati che provenivano da queste da queste indagini stat e adesso tutto importato una menzione a parte per la proprietà di stanza di che sapete che è molto importante anche per per le query che vengono fatte questa è stata utilizzata la classificazione dell'istat è stata classifica i musei secondo delle sue sue classificazioni insomma potremmo fare un museo poteva scegliere e dunque abbiamo utilizzato museo scientifico museo universitari tonografico dell'industria e quant'altro è stato scelto poi così anche di indicare distanza più specifica come un po dalle linee guida dove magari c'era un elemento che aveva una semplice istanza di museo senza nessuna fonte si è sostituito istanza di museo con l'elemento più caratterizzante e aggiungendoci ovviamente la fonte della dell'indagine istat in questo modo tale qui abbiamo ridotto un po gli elementi museo semplice come istanza aggiungendo tutte queste caratterizzazioni qui a volte anche più di una perché magari anche alcune indagini lo caratterizzavano con due tra quattro tipologie diverse però è anche utile dopo per fare delle query andare in più specifico capire quanti sono interessi musei religiosi musei della tecnologia ecco è abbastanza utile ecco un po di statistica su quello che è venuto fuori del del questo lavoro come vedete praticamente quasi il cento per cento degli elementi istat sono stati correlati dopo di conseguenze importati o creati x novo su su wikidata non è mai il cento per cento perché le volte abbiamo trovato su istat delle stupidaggini insomma le record che non erano importabili delle prove delle cose scritte a caso dei doppioni dei record praticamente vuoti così e quelli ovviamente sono stati scartati non abbiamo purato che forse delle cose serie quando prima di importarli appunto abbiamo sempre sono un 97 99 per cento ecco e per ognuno anche abbiamo degli elementi nuovi vedete l'indagine 2011 140 2017 135 103 e così via 2020 di più perché siamo partiti dal 2020 andando all'indietro dunque pertanto erano quelli che c'erano più di nuovi nel 2015 non abbiamo creato nessuno di nuovi perché nel 2015 usava un metodologia di registrazione economico di lungo è stata un po un po complessa che era difficile da fare quel lavoro di correlazione c'era troppo la il rischio di creare anche dei doppioni e così allora siccome poi sarebbero stati pochi quelli che sembravano nuovi non invitarono neanche creati tanti sarebbero stati qualche decina interessante più erano anche molto vecchi qualcuno che esisteva insomma c'era un concreto problematica di creare troppi errori allora si è preferito lasciar perdere cosa che comunque si può sempre tornare indietro a rivederli complessivamente dagli stati importati 1146 elementi nuovi dunque sono stati creati 1164 scusate elementi nuovi su wikidata che siano in quest'anza di museo o in stato classe di museo e 6.814 sono stati sono stati aggiunti delle delle dei dati provenienti da queste indagini stati ogni nagista tra 4 5 mila musei alcuni sono compagni in tutti alcuni no e 6.814 sono quelli sono mutuamente esclusivi che abbiamo potuto importare e questo qua è stato il lavoro fatto su istat dunque abbiamo migliorato parecchio abbiamo averlo fatto migliorato parecchio questo museo questo con questo questi elementi museo di di wikidata è stato fatto anche un grandissimo lavoro di di unione perché nel momento qui correlavamo i dati in cui creavamo nuovi nuovi item veniva fuori veramente un sacco di doppioni che sono accaduti nel corso degli anni con precedenti importazioni e allora abbiamo cercato di prendere l'occasione per anche fare un bel controllo non dico che non ci sia sfuggito nessuno però sono stati uniti veramente nell'ordine di qualche centinaio penso di elementi che sicuramente erano erano lo stesso lo stesso museo insomma dunque è stata anche l'occasione per fare una bella una bella pulizia un'altra fonte oltre istat un pochino minore però questa la sua dignità ce l'ha avuta è stata bweb chi non conoscesse è un database di beni ecclesiastici fatto dalla chiesa cattolica in cui nel loro database abbiamo trovato 305 musei ecclesiastici anche questo ho fatto il lavoro di correlazione è molto più semplice il numero è estremamente inferiore e sempre attraverso dei piccoli strumenti informatici creati un po' ad hoc abbiamo importato dati per 272 elementi e creati 32 nuovi elementi museo questi dati erano molto di meno anche quelli di di bweb anche perché poi alcuni non tutti c'è scritto che sono dei cc zero non tutti abbiamo preso giusto il l'idea che fosse un museo un museo cesano e l'indirizzo ecco poco altro però vedete quasi tutti già esistevano però sto fatto anche il lavoro di correlarli su wikidata con l'identificatore bweb corretto dunque c'è questa università tra tra i due e anche il codice della cei che è un altro codice che viene segnato da questi database bweb controlli post importazione come dicevo prima abbiamo fatto un lavoro abbastanza certosino meno ci abbiamo provato anche sulle sulle sui sui doppioni che è stata la cosa più importante dunque l'idea è che visto che abbiamo fatto tutta questa importazione a questo lavoro che volevamo avere un database un data set di musei non solo corposo e pieno di limiti ma anche abbastanza coerente pulito ordinato abbiamo cercato di fare anche dei lavori di controllo insomma abbiamo fatto il controllo sulle etichette sulle descrizioni un controllo sulle proprietà unità amministrativa in modo tale che tutti i musei ce l'avessero e abbiamo in emilato doppioni e qualcos'altro e qualcos'altro faremo ancora il progetto non è finito poi andiamo avanti anche perché poi siamo anche volontari appassionati di wikidata così e l'idea di continuare a fare cercare di migliorare sempre più questo dataset nell'ambito del progetto ma anche oltre appunto il futuro è continuare con queste importazioni anche perché abbiamo un po creato gli strumenti per farlo diciamo questo piccolo che noi l'abbiamo sviluppato perciò si spera che sito pubblicherà a marzo quando lo fa di solito l'anno prossimo l'indagine relativa al 2021 e importeremo anche i dati del 2021 sperando che siano anche abbastanza interessanti per noi può magari migliorare l'indagine del 2020 tutta incentrata sul covid e così via nel 2022 finché penso avremo voglia e così insomma gli script ce ne abbiamo è abbastanza semplice anche se sempre quel lavoro di correlazione un po più più veloce ma come vi dico non c'è un codice che ci possa permettere sempre di risalire a quello ma faremo in manuale importazioni di altri dataset stiamo valutandone altri non sono semplici da trovare alcuni beni culturali è già stato importato anni fa qualcosa abbiamo trovato stiamo valutando come utilizzare se sono utilizzabili l'inserimento delle coordinate geografiche circa il 30 40 per cento solo vado a memoria di musei su wikidata sono già referenziati sarebbe bello arrivare un po tutti gli altri si voleva proporre anche magari una qualche tipo festival della qualità che ci sono su wikipedia così per approvare la gente a un po di coordinate geografiche vediamo un po cosa succede un lavoro abbastanza impegnativo ma ci rifacciamo realizzazione di qualche strumento di monitoraggio anche perché è venuto fuori anche qualche giorno fa ne parlavo con un ricercatore università cristian consonni forse conoscete che parlava anche voleva fare stava pensando di fare una pubblicazione su alcuni dati sui musei italiani e gli ho detto guarda abbiamo già un sacco di dataset così interessante e allora magari dobbiamo sviluppare qualche sistema di monitoraggio che è utile sia per fare delle statistiche anche con noi ma anche per tenere monitorato l'intero dataset di wikidata una volta che io riesco a monitorarlo posso anche capire come intervenire per migliorarlo per accorgermi di eventuali magari macroscopiche incongruenze che ci possono essere così comunque monitoraggio sia statistico sia anche utile allo sviluppo appunto di tutto questo dataset insomma vedere cosa manca come si può migliorare o tra gli errori e di conseguenza realizzazione anche di semplici strumenti per poterlo migliorare appunto accorgo degli errori automatico tramite magari un bot riesco a correggerli oppure me li posso segnalare in modo tale che la persona umana possa capire dove andare a intervenire sempre per questo miglioramento per questo migliorare questo data center insomma ecco niente questi qui sono non le vedete perché le ho messe malissimo non sono venute però comunque dopo se mai se vedete ve le metto in chat o così sono le due i due siti internet dove sono un po riassunte queste cose sono anche un pochino più specifico cosa è stato importato esattamente da istat le proprietà per ogni anno l'indagine e la pagina su meta su tutto il progetto in cui viene descritto tutto il resto questo qua ripeto è proprio la fase 1 l'inizio di questo di questo progetto molto grande e pluriannale che andrà avanti ecco vi ringrazio spero di portarvi a pochi pochi minuti e lasciare un pochino magari spazio a qualche domanda e qualche consiglio magari su come continuare qualche idea ecco tanto vi ringrazio l'attenzione spero di non avervi annoiato troppo di venerdì con questa bella il pomeriggio tanto grazie grazie federico è tutt'altro che annoiati è stato veramente molto interessante vedere un progetto così tanto la stuporazione del progetto dalla sua idea diciamo così fino all'evoluzione anche alle prospettive future tutto molto chiaro io poi sono curioso mi sono assegnato alcune domande nella speranza che magari nel frattempo ne arrivino anche altre o in chat o direttamente anche perché sono pochi una di queste è che forse mi ha sfuggito all'inizio avrei detto probabilmente ma non sono stato abbastanza attento e il formato dei dati che avete preso dal lista è stato possibile scaricare sotto forma di tabelle csv eccello banalmente era un file di testo che dopo di che per per mia comodità l'ho importato in un mio database sql su cui dopo ho fatto l'elaborazione tutte le correlazioni così era si trovano in tutti i microdati sul sito del sono tutti segnati comunque lo trovate in qualsiasi museo trovate nella fonte i dati proprio il link è un file in testo fondamentalmente quindi è sotto forma di testo bisogna lavorarci per avere una struttura tabellare insomma sì esatto ma è un testo separato da tabulazioni se non ricordo male da lì l'ho importato sul mio database e da lì ho potuto fare le varie in locali diciamo elaborazioni dopo di che questo indica un bel passaggio che non è così scontato non tutti sono non rilasciavano niente di facilmente accessibile lo stesso è successo con v web anche loro hanno voluto dati no v web ho dovuto fare un piccolo che andava a leggere la pagina web tra l'altro scaricandola perché non si poteva leggerla direttamente ho dovuto scaricarla e dopo di che leggerla con dei crawler passi di che si pare non ricordo quella del termine quando ho dovuto fare una cosa un po così che che la prima fortunatamente erano tra 120 e ha fatto in maniera quasi manuale diciamo non sarà stato possibile questo rende particolarmente prezioso il lavoro che avete fatto sarebbe bello che v web ci desse almeno delle parti che rilascio in cczzaro sarebbe bello averla tutto da poter importare almeno correlare tutti i nostri elementi così purtroppo so che wikimedia aveva tentato anche degli approcci con con la cei che non credo che siano andati molto avanti così perciò no difficile accedere a quei dati tra l'altro è un po' una sfida ecco un'altra cosa che volevo chiederti era questa ho visto che le sequenze dei dati presi dall'istat sono diciamo così e tu hai specificato che siete andati a ritroso e però ho visto che appunto c'è un buco nel 2016 e un buco tra il 2011 e il 2015 è una scelta o non c'erano a disposizione i dati? No non ci sono non sono pubblicati ho provato a chiedere anche al professor Bertacchini con cui abbiamo collaborato all'università di Torino che è un po' seguito e anche lui non non sa esattamente perché istat noi crediamo che non abbia proprio neanche fatte queste queste indagini degli anni il motivo lo ignoriamo il motivo lo ignoriamo perché io avevo questo sospetto che non puse cioè che diciamo l'indagine sia diventata regolare solo negli ultimi anni e non esatto pensiamo che non si perché sono state cambiate anche il modo anche di archiviare quei dati perciò può darsi che sia cambiato anche lo staff che lo faceva nel frattempo perché proprio vedo anche i nomi di record banalmente erano in un modo nei primi anni poi non li hanno cambiati perciò può darsi che è stata nel frattempo abbiano perso quelle due annate però onestamente non so il perché su istat non ci siano forse proprio non le hanno proprio fatte ecco ok andiamo in chat non vedo ancora altre domande quindi approfitto io ci sei prego ti faccio ti faccio ancora un'altra domanda poi magari vediamo se qualcuno si fa vivo e se ho capito bene il ecco alessandra si prenota quindi dopo ti fa anche lei e se ho capito bene nei dati istat l'istat non mette un identificativo per l'entità e quindi di anno in anno tu hai qualcosa di diverso e quindi anche a livello di di wiki data non è possibile cioè non esiste una proprietà di identificatore istat proprio perché l'istat non lo fornisce assolutamente no purtroppo no l'unico modo che abbiamo riuscito a capire l'uno con l'altro a usare banalmente il nome l'indirizzo il luogo robe del genere capire sperando che almeno il nome fosse uguale l'uno all'altro perché non è detto neanche quello un anno era museo di castelvecchio l'altro era museo civico di castelvecchio ok lo riservavamo ma in anima automatica era impossibile da fare purtroppo mettere un semplicissimo identificativo no non l'hanno fatto almeno nei dati pubblicati che poi magari loro nel loro database se l'abbiano forse boh spero però su quelli pubblicati non c'è niente che identifichi che lo mette nei vedenzi no sto zitto adesso sto zitto lo faccio credo male sì sì eccomi qui vi io volevo richiedere volevo chiedere che tipologia di strumenti di monitoraggio avete intenzione di sviluppare e chi e chi li svilupperà poi insomma come come vi gestirete in questo senso ma allora sono un po' idee mie ecco non sono robe di wikimedia però fondamentalmente sto sviluppando un po' di cose anche per fare delle statistiche tipo vedere quanti musei ci sono nelle varie regioni nelle varie province nelle varie città quanti sono classificati museo archeologico museo storico museo bla 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 quanti hanno l'immagine le coordinate così e tutte queste cose qui che insomma non sono difficili da fare adesso che abbiamo un po' le idee chiare e le sto facendo in mail locale così anche un po' per schizzo un po' per svilupparlo dopodiché se la cosa viene fuori benino può essere utile si può pensare di farlo un pochino meglio adesso sto facendo proprio una cosa così diciamo alla garibaldina e speriamo che magari possa essere utile dunque svilupparlo un pochino meglio gli strumenti sono fondamentalmente query wikidata e anche in parte ho importato su dei miei database locali i vari dati in modo tale anche da avere più facilità più velocità nell'elaborazione però l'idea è che con tutte queste correlazioni qui con anche istat comunque adesso noi abbiamo anche importato tutti questi dati da istat però ce ne sono altre mille che qualcuno magari potremmo ancora importare forse ancora qualcosa può essere utile tanti altri non sono da importare però la correlazione database istat wikidata esiste almeno nei nostri computer perciò potremmo sempre andare a correlare uno di quei di tutti i record di istat che non erano fatti tramite i nostri computer sono correlati non su wikidata chiaramente perché appunto non esiste l'identificativo univoco però noi l'abbiamo l'abbiamo fatto al nostro interno perciò mettendo insieme tutte queste cose qui possiamo anche realizzare dei monitoraggi abbastanza interessanti dello stato sia del dataset wikidata sia del dataset più istat per mettere tutti questi dati e anche abbiamo fatto anche delle cose che le mettono tutti insieme io in un click potrei vedere una scheda con tutti i dati di tutte le indagini istat fatte tutti i vari di cose e più quelli di wikidata abbiamo fatto e roba del genere dunque strumenti che insomma sono un po' in divenire gli sto un po' buttando giù e dopodiché anche magari gli sto facendo vedere a qualcuno magari qualche consiglio su come svilupparli grazie se non ci sono altre domande volevo chiederti una cosa io sono Elena ciao sul livello di completezza che considerate cioè ritenete di aver importato tutti i musei italiani cioè tutti sempre con come dire appunto che livello di completezza ritenete di aver raggiunto perché una cosa che mi veniva in mente è il nuovo catalogo dell'ICCD che prevede anche i luoghi della cultura che sicuramente non sono tutti i musei perché sono tutti i luoghi che conservano beni culturali quindi ci sono anche i luoghi che non sono definibili musei però non so se è un incrocio anche con questo database visto che l'hanno fatto correggimi Carlo se sbaglio però c'è il nuovo catalogo in formato LOD quindi diciamo in un formato che sicuramente agevola l'interazione con Wikidata pensare di interrogarlo tramite query per andare a recuperare eventualmente una serie di musei che magari sono sul catalogo ICCD ma non sull'indagine ISTAT se ritenete che ne valga la pena ecco perché appunto so che il catalogo dell'ICCD ha fama di essere ultra affidabile sicuramente ha una rete molto capillare di catalogatori che vi contribuiscono e ha un carattere di ufficialità quindi diciamo che a livello di completezza penso che sia una fonte molto completa che sicuramente non comprende solo musei però grazie assolutamente io non la conoscevo bene questo database qui ma benissimo sarebbe veramente ottimo poter fare anche qui un'importazione anche intanto una correlazione a vedere cosa manca e cosa no quanto sia attualmente completo il dataset Wikidata non saprei bene dire perché non ho un raffonto attualmente contiamo oltre 8300 elementi che siano museo o sotto classi di museo come istanza molti magari non sono proprio strettamente musei però ISTAT le considera musei perché sono stati presi dal database dei musei dall'indagine musei perciò è una fonte ISTAT ed è anche per noi insomma dunque niente di scorretto 8300 non sono pochi onestamente non so quanti ne siano scappati e robe del genere però sarebbe bello poter fare avere un'altra fonte magari addirittura lì se si potesse anche correlare usare un identificativo IQ e robe del genere sarebbe ancora meglio abbiamo anche una perché praticamente l'ICCD ha fatto questo nuovo catalogo in formato LOD e ha creato su Wikidata la proprietà luoghi della cultura adesso non so se qualcuno magari poi lo possiamo mettergli in chat e ha anche pubblicato il dataset scaricabile proprio dei luoghi della cultura non so se questi luoghi siano già la proprietà esiste in Wikidata quello che non so e credo che la risposta sia no non credo che sia stata al 100% riversata su Wikidata cioè se tutti i luoghi della cultura secondo me no perché loro hanno poi uno strumento di abbinamento hanno Olaf per abbinare la loro entità però in ogni caso c'è il dataset scaricabile sul sito dei è un catalogo che dipende dal Ministero dei Beni Culturali direttamente quindi a partire dal sito del Ministero dei Beni Culturali ma se no poi ti metto in chat il link proprio ai dataset c'è i luoghi della cultura adesso non so se questi siano poi suddivisi in sottoclassi in modo da... perché i luoghi della cultura sono anche chiese ad esempio che conservano la statua o il quadro oppure credo addirittura possano essere case private che conservano magari un bene che è classificato come bene culturale però ricomprende tutti i beni culturali diciamo sotto le sovrintendenze quindi definiti bene culturale dal punto di vista del Ministero e quindi forse se si riesce a scremare da quei luoghi della cultura che saranno tantissimi scremare i musei e fare un confronto con quelli che voi avete già definito musei magari si trova ancora qualcosa che magari è sfuggito se interessa effettivamente una completezza diciamo tendente al 100% per quanto è difficile sempre da raggiungere Sarebbe molto interessante ne posso parlare anche io con Yolanda e soprattutto con Guido poi che segue la... che mi aiuta a queste cose qui anche col professor Bertacchini non ero mica conoscente di questo e... Ho messo in chat Sì ho visto Ho messo in chat e vi dico il link per... diciamo al sito dei LOD dell'ICCD e quindi quello di cui stavamo parlando è qui dentro tra l'altro tra poco a breve dovrebbe esserci una riunione con Chiara Veninata che è quella che si occupa di queste cose da parte di ICCD e alcuni membri del nostro gruppo proprio per portare avanti il discorso perché hanno... sono stati creati sono stati creati tre identificatori diversi per l'ICCD tra i quali appunto uno deve essere quello dei luoghi, della cultura e si sta anche cercando di verificare la congruità sostanzialmente di questi identificatori con i dati che vengono caricati e confermo che probabilmente come diceva Elena il lavoro è in corso quindi potrebbe essere anche interessante magari provare a mettere insieme le forze insomma Molto bello Sicuramente il lavoro enorme che avete fatto sugli dati ISTAT sarà una enorme ricaduta positiva nel momento in cui l'ICCD proverà a caricare i propri identificatori su Ultidata ne sarà un grandissimo vantaggio forse quella volta si potrà vedere la percentuale che è stata caricata ma io penso che sia veramente molto alta perché 8.000 entità sono veramente tante insomma quindi sono un numero rilevante non credo che ci sia molto di più molto altro vediamo se ci sono altre domande se vuoi approfondire il progetto comunque Federico c'è una presentazione di Arco fatta da Chiara Veninata nelle registrazioni del GVMAB quindi è venuta diciamo così ha partecipato a uno dei nostri incontri ci ha presentato il progetto quindi a grandi linee se vuoi approfondirlo è una presentazione come questa di un'oretta e lo puoi vedere sul sito andiamo a cercare a trovarti in giusto così te lo metto in chat lo cerco Carlo lo stavo cercando così lo cerco io così non ti devi ah ok perfetto grazie sai che però dal nostro sito dalla pagina del GVMAB c'è il link alle slide ma non alla registrazione erano Chiara Veninata e Veronica Santoni che erano venute a presentarle insieme novembre 21 e allora sono e però non c'è la registrazione forse non l'avevamo fatta per qualche motivo lo trovo c'è solo un link alla presentazione ma non la registrazione bisogna verificare sul sul canale YouTube a caso mai lo facciamo e poi e poi glielo giriamo a Culevico grazie molto volentieri anche perché appunto diciamo stiamo cercando anche altre fonti per per riempirlo ancora insomma questo database per fare dei controlli insomma tutto poi una cosa così ufficiale sarebbe ottima veramente verificato se ci sono dei database a livello internazionale che per esempio non so penso a un eventuale database europeo che includa di rimando anche quelli italiani o non lo avete ancora cercato in questo senso su quelle cose lì è più ferrata Yolanda e il professor Bertacchini che sono loro che insalto mi hanno sempre detto ora meglio guardi guarda là perché è loro che le sanno bisogno di girare soprattutto loro queste cose qua io sono pura manovalanza beh insomma non siamo a di alto livello sono al terzo piano qua allora era quello va bene io vedo che non ci sono altre domande allora ti ringrazio moltissimo dell'intervento grazie a voi e se vuoi mandarci le slide noi le possiamo caricare caricare con un link sul sito sul nostro sito rimangono ma comunque c'è la registrazione si vedono tutte molto chiaramente sì sì comunque io le mando dopo a Camillo se volete dopo perfetto benissimo ci mancherebbe tanto grazie a voi allora grazie mille ciao 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 ciao